Benvenuti a tutti in questa terza pillola sull'organizzazione del proprio account di Azure DevOps. In questa pillola andremo a guardare in maniera più dettagliata come sono gestite le autorizzazioni all'interno di un intero team project, una scatola. Siamo infatti all'interno della scatola A che è un contenitore di più progetti e come vi avevo detto nella prima pillola è bene considerare più il team associato a un concetto di progetto più che il team project. In questo caso infatti nella scatola A che è il team project ho due team, uno chiamato progetto legacy e uno chiamato progetto unicorn. Nel progetto legacy come membri ho Mario Rossi oltre a me che sono l'amministratore e nel progetto unicorn ho Giuseppe Bianchi oltre a me che sono amministratore. Ora se andiamo a vedere come i due utenti Giovanni Bianchi, Giuseppe Bianchi e Mario Rossi vedono i due team project potrete vedere che andando nella parte di gestione backlog ogni utente vede il backlog del progetto di cui fa parte. Quindi il progetto unicorn vediamo il work item di progetto unicorn e invece Mario Rossi che sta nel progetto legacy vede i due work item del progetto legacy. Ora Mario Rossi cliccando può vedere il progetto unicorn perché comunque ha accesso alle informazioni generali del team project ma se clicca sul progetto unicorn quello che succede è che vede ugualmente il work item del progetto unicorn. Quindi cosa succede? Che io non ho messo Mario Rossi all'interno del team del progetto unicorn. Possiamo riverificarlo come amministratore o solo Giuseppe Bianchi ma allo stesso tempo posso vedere che Mario Rossi in realtà può vedere i work item del progetto unicorn e questo delle volte sorprende l'utente che configura il sistema. Se voi però ricordate ciò che vi ho detto nella seconda pillola ogni utente che voi mettete all'interno di una scatola quindi la scatola A ogni utente che viene messo in una scatola viene messo automaticamente in un team del in un gruppo del team il quale gruppo del team a sua volta è associato ai contributor e quindi a sua volta ha visibilità operativa su tutto quello che c'è nella scatola. In poche parole quando voi mettete Giuseppe Bianchi all'interno del team del progetto unicorn in realtà voi lo state mettendo nel team del progetto unicorn che a sua volta è membro dei contributor e che quindi può accedere a tutto ciò che c'è nel team project e quindi nella scatola. Ora la domanda che tutti fanno è quella di dire ok ho modo di invece modificare questi permessi in modo che Giuseppe Bianchi che è membro solo del progetto unicorn possa solamente vedere le informazioni del progetto unicorn? Sicuramente sì e va fatto in vari punti della propria organizzazione più che altro in vari punti del proprio team project della scatola. Iniziamo a parlare ad esempio di come si effettua la protezione dei work item. Innanzitutto andiamo in project configuration quindi nella parte delle board andiamo nella configurazione del progetto andiamo nelle aree e noi vedremo che come vi avevo detto la prima volta abbiamo due aree una legata al progetto legacy e una legata al progetto unicorn. Questa è la configurazione che permette di dire nella team configuration per quanto riguarda le aree che il in questo caso il progetto unicorn andrà a poter vedere solamente i work item che fanno parte dell'area del progetto unicorn mentre invece il progetto legacy potrà vedere solo i work item che sono all'interno del progetto legacy ma quando io dico potrà vedere non sto parlando di security sto parlando semplicemente del fatto che filtrando i vari backlog i work item che vengono visti nel backlog sono solamente quelli che appartengono a un'area. Tornando nell'amministrazione noi possiamo però fare un piccolo gioco di configurazione delle aree che consente di ottenere il risultato richiesto ovvero che Mario Rossi sia in grado di vedere solo i work item che sono nel progetto unicorn perché fa parte del progetto unicorn e Giuseppe Bianchi possa vedere solo i work item del progetto legacy perché fa parte del progetto legacy. Quello che noi dobbiamo fare è prendere ad esempio l'area del progetto legacy andare a gestire la security come potete vedere quello che accade è che noi all'interno di questa area progetto legacy abbiamo gli utenti di contributors che possono perché hanno ereditato il permesso dalla radice gestire i work item che sono che fanno parte di questa di quest'area quindi noi quello che dobbiamo fare per esempio è stoppare l'ereditarietà togliere i contributors e dato che noi stiamo configurando il progetto legacy quello che vogliamo è prendere progetto legacy prendere il gruppo specifico del progetto legacy e dare la possibilità di gestire tutto ciò che è sotto questa sottoarea facendo questo quello che noi otteniamo è avere in questa area del progetto legacy i permessi di editing e di gestione dei work item solamente per tutti gli utenti che sono effettivamente nel progetto legacy perché abbiamo tolto i contributors ok vediamo cosa succede chiudiamo la configurazione andiamo a vedere gli altri due utenti ok ora tutte e due vediamo il progetto unicorn andiamo a prendere il progetto legacy et voilà è vero che giuseppe bianchi può ancora vedere il progetto legacy ma di base non ha possibilità di vedere realmente quello che c'è dentro vede un backlog vuoto mentre vedete che mario rossi che effettivamente membro del progetto legacy può vedere quello che c'è dentro tra l'altro se mario bianchi se giuseppe bianchi tenta di creare qualcosa all'interno di questo backlog avrà un bel errore dicendo che l'utente non ha permessi chiaramente a questo punto quello che voi dovete fare è andare a fare la stessa cosa con il progetto unicorn andare a prendere la security togliere i contributors stoppare l'ereditarietà andare a prendere il progetto unicorn e dare i permessi solamente alle persone del progetto unicorn quindi ricapitolando quello che noi stiamo facendo è un'operazione molto semplice quella di configurare la security delle varie aree dei work item togliendo contributors disabilitando l'ereditarietà da ogni area radice dei vari team e andando a dare ad ogni area permesso di editing dei nodi solo al team corrispondente in questo modo quando noi andiamo a vedere con i vari utenti i nostri backlog giuseppe bianchi fa parte del team legacy e quindi sostanzialmente fa parte del team unicorn scusate e quindi può vedere i suoi work item del progetto unicorn e mario rossi vedi work item facciamo un refresh per sicurezza del progetto legacy però se mario rossi va a vedere il backlog del progetto unicorn lo vede vuoto chiaramente non potete evitare che mario rossi sappia che esista un altro team chiamato progetto unicorn perché comunque fa parte del team project e riesce a leggere le informazioni generali del team project però è chiaro che in questo caso noi abbiamo protetto tutto il backlog del team da persone dell'altro team quindi nel caso in cui voi abbiate effettivamente la necessità di dover far sì che le persone vedano solamente i work item che fanno parte del proprio team è sicuramente necessario andare a fare questo tipo di configurazione mettendo in sicurezza le varie aree e con questo si conclude la terza pillola nella prossima andremo a vedere come effettuare lo stesso tipo di protezione però a livello di repository se vi è piaciuta questa pillola vi suggeriamo di registrarvi al canale di get latest version per non perdere le prossime ciao